L'amore è dare incondizionatamente a qualcuno, direi. L'amore è quel sentimento che lega due persone, indipendentemente da qualsiasi pregiudizio genere. L'amore è tutto! Guarda, due anni di analisi, lasciamo sta. Non ero pronto per questa cosa. Allora, vabbè, l'amore, cioè, a parte che è un concetto un po' particolare, nel senso non esiste un amore unico, ma esistono diverse tipologie. Cioè, l'amore, secondo me, è una parola che noi consideriamo, cioè, che io considero riduttiva, perché non esiste una tipologia. Poi, ognuno la vive in modo personale, in modo proprio, esiste l'amore per un'altra persona, esiste l'amore fraterno, l'amore per i parenti, l'amore e l'affetto per gli amici. Un po', un concetto di amore alla greca, era diviso su tre tipologie di amore, diciamo, no, quindi dipende che tipo di amore intendi. Cos'è l'amore? L'amore è vogliersi bene. Semplice, era la domanda. Era semplice. L'amore è tolleranza. È questo. L'amore, l'amore è una cosa molto difficile. Credo che sia sopportare la persona con quest'aglio, anche nelle cose brutte. L'amore è farsi trasportare e poi decidere ogni giorno di coltivare qualcosa assieme. L'amore è lei. Ciao. Ciao.